Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Bloom Steady Battles! Nello scorso episodio abbiamo fatto due random trio che entrambe abbiamo vinto comunque e oggi è l'episodio speciale! Che cosa significa? Comunque giriamo la ruota prima di andare a fare la specialità del quindicesimo episodio Per chi sa, sa! Per chi non sa, vedrà! Ma proprio la cosa che io non uso devo trovare, mamma mia! Tanto per vediamo se c'è un torneo... No, va bene! Comunque oggi la specialità... Faremo le card battle! Esatto! Io l'avevo detto, ogni 15 episodi faccio le card battle! Comunque c'è un nuovo deck! Un nuovo caso del mazzo! Tanto per dire, ho fatto già il mazzo off camera prima di questa partita perché non volevo farvi aspettare e annoiarvi col fatto che mi vedevate creare il mazzo non volevo annoiarvi quindi... comprendete non penso che vorreste vedermi fare il mio mazzo comunque cioè, per carità, comunque non capisco pure ma... solo questa cosa ho fatto con voi beh, adesso però... andiamo alla partita! Comunque anche qui ci sono i... i club in questo caso c'è Bananza che... me la faccia voglia comunque cosa brutta delle card battle si paga medaglie per entrare come se fosse una battle arena solo che è un pochino diversa perché c'è una scelta di scimmie più grande comunque quindi c'è anche un pochino di differenza tra battle arena e card battle comunque se mi trovo un avversario sarebbe molto bello perché gioco sai... guarda che cacchio è successo comunque sto per dire trovami un nemico però, eh che io devo registrare una partita di... questo, cavolo se non mi trovi come faccio a registrare un gioco brutto che non mi fa registrare raga mi sa che non faremo la bananza per ora facciamo un white wasteland che... ah su white wasteland però me lo trova il nemico, eh su white wasteland me lo trova il nemico mannaggia a te mannaggia dart freezer 528 deve per forza schippare ok guardate raga a me finché c'è l'acqua mi va stra benissimo perché a me l'unica cosa che serve per vincere è l'acqua comunque raga mi servono i soldi per la dartling gun se non faccio in fretta non posso piazzare perché si vuole iniziare con la dartling gun, va bene? si bravo, inizio con triple darts bravo, bravo vai con triple darts, eh vediamo quanto a lungo resisterai solo con triple darts diamo ok è 1-1 questa roba va bene, allora poi cosa ci serve? ci serve pursuit principalmente ci serve l'elicottero oppure mandargli 200 verdi anche sarebbe un'opzione comunque però allora o bionic boomer che spara stra velocissimo oppure mettiamo pursuit che potrebbe andare in giro per tutta la mappa allora perché comunque pursuit costa anche 200 in più quindi non lo so allora per ora in realtà mi sa che comprerò pursuit perché mi sa che pursuit è meglio comunque lo metto sul tetto della casa se non mi chiedete perché comunque ma e te vattene via quel paese addio vabbè se ne è andata poi potrei piazzare una super scimmia però no perché adesso vorrei mandare gli palloncini comunque che mi daranno più 200 più 100 di incasso comunque cioè costano un po' cioè 2400 comunque ma ne vale la pena che abilità ho usato comunque tieni sti palloncini verdi amico vediamo come te la ca bene 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 perché tu dove perché tu devi avere sta roba perché perché bene raga ho il sospetto che questa partita la perdiamo comunque ma in realtà c'è un modo facile per vincerla c'è un modo molto facile per vincere la sta partita è il modo iper facile in realtà comunque non voglio dire ma è il mago col fuoco perché se lo metto io non morirò mai almeno credo comunque lo metterò più verso l'inizio perché raga ah comunque adesso raccogliamo 2000 così gli mandiamo camo metallici che lui non potrà rompere dobbiamo mandargli per forza i camo metallici comunque bene proprio di questo mi preoccupavo perfetto il mio piano è appena andato a monte cavolo avrei vinto comunque non voglio dire però c'è ancora un'altra cosa che posso tentare rego rainbow rush bene l'ha disintegrato questo può essere un piccolo problemino comunque il fuoco risolve tutti i problemi ecco triple d'arse comunque allora raga mettiamolo tipo qui ora quello spike factory comunque mi preoccupa molto sappiate questo mi sa che questa partita durerà un po' perché allora neanche i camo danno qualcosa perché comunque il mago non li rompe ma lo spike factory lo spike factory è il problema principale io vorrei farmi questo laser cannon costa tipo l'ira di dio ma comunque comunque ma comunque è stra buonissimo comunque rilli è stra buonissimo ora preferisco piazzare che mandare palloncini perché questa occasione veramente è da non sprecare perché cioè questa carta sapete quanto è forte almeno raga cioè è tipo buonissima cioè tipo buonissima però non c'è del blantonio ma questa è una cosa che mi preoccupa un po' mi sa cioè mi preoccupa un bel po' perché allora comunque sto perdendo perché ho perso la mia prima tutta la mia vita raga sono ancora vivo sappiate una cosa adesso non potrò più morire yeeey ho laser cannon eh ti mando un pochino di palloncini mi sa cacchio i laser non lo distruggono porca miseria mi sa che ho perso mi sa che ho perso comunque raga mi sa che non è vero perché mi sto difendendo molto bene perché laser cannon fa stragi mamma mia laser cannon quanto sei buono comunque raga ma laser cannon quanto OP c'è mamma mia quante OP però eh ce l'ho capito troppo buono allora allora dobbiamo mettere il mago col fulmine qua all'inizio allora ho paura che questa partita possa andare molto male comunque più che altro perché lui ha quello spike factory c'è lo spike factory comunque mi preoccupa molto sappiate questo tieni un po' di rossi tieni un po' di rosa poi ok ok poi cos'altro comunque adesso mi servirebbero più soldi per per metterne un altro comunque perché se ne avessi due sarei troppo OP comunque sarei veramente troppo OP se ce ne avessi un altro comunque perché veramente pure mandiamo facciamo così raga mandiamo gli questi che mi aumentano di un bel po' l'incasso comunque poi mandiamo gli anche questi che gli aumentano ancora di più l'incasso e raga gli stanno passando gli stanno passando robe raga sta perdendo molta vita l'hanno indebolito molti i miei palloncini comunque ok mamma mia questo mi preoccupava molto mannaggia ah il blungizzo quando ho perso raga raga quanto ho perso bene beh non è andata più così male forse no oppure è andata male comunque secondo voi non lo so so solo che adesso voglio fare bananza se mi fa fare bananza ora perché bananza non va non lo so so solo che devo vedere se posso prendermi un un TR3 no un TR3 un TR3 comunque si quello dell'aspiratore mi manca un ultimo TR3 e poi ce li avrò tutti di TR3 comunque raga veramente vorrei fare bananza comunque in questo episodio perché bananza veramente mi piace un sacco mi so che tutte le persone però sono in battaglia mannaggia 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 perché non mi trova nessuno perché 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 non mi vuole trovare nessuno come se non volessero che io facessi la bananza questa cosa non mi piace che ci ha fatto ma comunque aspettiamo se vede raga aiuto raga raga aiuto che sta succedendo comunque mi sa che faccio un toglio finché non trovo l'avversario raga sono passati sto per dire sono passati 5 minuti non ho ancora trovato nessuno raga ho perso contro questo ho già perso perché questo avrà tutti TR4 questa mappa è un'acqua senza acqua non ci credo un'altra mappa senza acqua grazie amico ok questa c'ha l'acqua mamma mia qua mi sa che ci perdo comunque e poi vorrei farvi notare lui sta in un clan vorrei farvi notare questo lui sta in un clan mi preoccupa un po' questo fatto perché ho paura di perdere comunque ah il mio lato è questo bene non l'avevo capito poi qua mi metto già una scimmia per i suoi paloncini adesso aspettiamo i soldi per la minigun e per ora ci siamo comunque io metto tante cose mi metto solo un ninja io invece mi divendo il più che posso bello mi serve 2400 mi faccio un botto di incasso comunque e mi domando se lui più che altro se mi domando se lui più che altro se la caverà ma non credo che beh credo che se la caverà mi sa può finire il round che ti vorrei mandare un po' di palloncini in realtà no forse è meglio che vieni come lo piazzo comunque al suo posto ti mando tei rosa tieni rosa tieni rosa amico eh sì pure il glavierico che pure io mi sa che qui adesso metterò un triple darts proprio ok per ora sta andando really bene palloncini verdi chissà se mi fermeranno mai ok questo cosa l'ho messo raga mi sto difendendo il più che posso perché ho paura che questo mi farà molto danno comunque ho questa paura comunque comunque mi sa che se lo la minigun e qua metto un mago perché mi serve il mago comunque mamma mia questo quanto incasso mi darebbe cioè si laser cannon è tipo oppico ma comunque prima cosa diamo il destroyer perché serve e lui sta provando sta provando a mandarmi i palloncini ci sta provando e provando ma non riesce io ti mando dei blu e ti mando anche dei rossi e ti mando anche dei rosa e ti metti in coda anche dei blu e ti metti in coda anche altri rosa e ti metti in coda dei metallici e però non ti metti in coda niente perché non è ancora il round 14 e ti metti in coda altri metallici e ti metto dei blu e ti metto dei zebra raga ma questo guadagna soldi rompendo i palloncini non è giusto lo sto tipo straspammando di palloncini comunque però io ho due bionic boomer quindi yay mi sa che questa è una partita molto combattuta comunque non vorrei dire ma mi sembra una partita un pochino combattuta comunque adesso nelle barche gli mando sempre i palloncini con le barche poi mi faccio un botto di ingasso almeno quindi yay bounty comunque buono mi sembra sembra di capire adesso mi metto anche io dragon's brief che metterò qui comunque se si leva la sentinella sentinella ti levi che cacchio ho fatto raga raga non ci credo gli ho mandato i palloncini ma perché io sono malato di mente tieni questo poi metto un elicottero tieni questo tieni questo tieni questo tieni questo tieni questo tieni questo tieni anche questo tieni questo tieni anche questo gli sto mandando di tutto e di più tieni anche questo e anche questo e anche questo comunque gliene sto mandando tantissimi di palloncini oh la coda è già al massimo figo bellissimo quanto scorrono velocemente questi poi un altro pursuit mi sa poi qui un mago col fuoco poi qui se riesco no tieni ti mandi blu poi no niente mini che hanno comunque tieni questo poi tieni che mi faccio tipo tantissimo di incasso con questa mossa vabbè tieni anche questo comunque raga gliene sto mandando tantissimi di palloncini ma comunque non riesco a stare al passo con i soldi mamma mia sto qua sto così tieni questo sto lo metto qua sto lo metto qui sto lo metto qui raga non riesco a spendere i soldi perché ce ne ho veramente troppi comunque scegliamo questa sentinella un attimo vanno mettere un altro ingegnere qua poi un mago qua poi tieni questo tieni questo tieni questo tieni questo raga non riesco a stare al passo dei soldi comunque raga c'è veramente c'ho cose troppo c'ho troppo incasso non riesco a spendere i soldi questo questo può essere un gran problema comunque e mi sa che questa partita andrà così a lungo comunque non so che cosa me lo dice forse il fatto che ti posso 3 miliardi di robe e ti posso spammare di palloncini all'infinito comunque comunque raga lo posso spammare di palloncini all'infinito comunque con tutti i soldi che ho cioè mi metto un altro mago col fuoco perché posso mi mando dei rosa perché posso metto un altro elicottero ancora perché posso poi qua metto un altro super monkey perché comunque non posso quindi tieni i palloncini mettiamo questo mettiamo questo questi te li mando questi te li mando triple darts questo tieni 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 mettiamo un mago col fuoco un altro raga ma questa partita quando sta andando a lungo cioè quante robe raga non c'è neanche più spazio per le scimmie comunque ho veramente troppi soldi ho veramente raga troppi soldi cioè come faccio a sbarazzarmi di tutti sti soldi comunque tieni tieni poi qua mago col fuoco si vabbè ma te che si vabbè raga ma si è fatto un temple temple of the monkey god si vabbè si vabbè questo c'è il temple of the monkey no raga questa partita sarà tipo stralunghissima anche perché io comunque non ho spazio per le mie scimmie vorrei farvi notare che io non ho più spazio per le scimmie comunque io non ho più spazio per mettere le mie scimmie non ho più spazio raga ho finito tutto lo spazio esistente della mappa comunque mi sa che qui arriveremo anche al ma brosso comunque non so perché si ma tu quante robe che hai comunque tieni 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 raga io devo spendere i miei soldi ma non ho come cioè ho veramente troppi soldi e non posso spendere raga quando ho perso scusatemi raga quando ho perso so vabbè comunque è stata una partita bellissima io adoro le partite bananza potrei farmi un'altra partita sì voglio farla voglio fare una partita normalissima perché qui non ho neanche visto che cosa c'era nel club ecco random trio speed comunque non avevo le medaglie quindi vabbè play it fa perché non ho guardato c'era random trio bananza raga non ci credo cioè che cavolo c'era random trio bananza comunque tanto perché mi va faccio una partita old school scherzo in realtà no oggi non faremo più partite perché l'episodio è già lungo al massimo sapete che vi dico faccio un taglio faccio una assalt classica e ci vediamo quando ho finito comunque raga vi mostro solo il mio team che era quello raga vorrei farvi notare solo una cosa se notate i cosi viola si comportano in modo un pochino diverso sapete perché perché in poche parole come dire non ha ancora aumentato il raggio d'azione di tutti quindi torno a mettere il video in pausa ecco vedete adesso i cosi viola si comportano come l'ultima volta cioè stanno facendo cose stra epiche raga cioè guardate come mi sto barricando con gli sniper comunque mi sa che è un po' esagerato comunque è un pochino esagerato non voglio neanche uno sniper comunque però voglio qualcosa per il metallo quindi almeno uno sniper lo devo avere forse tipo due è un problema perché non mi sono preso un mago comunque beh ok abbiamo perso oggi non ho vinto neanche una partita yeeey mannaggia comunque raga oggi video molto lungo ve lo dico off camera questa volta veramente entrerò in un clan perché devo entrare in un clan l'avevo già promesso nel sesto episodio e non l'ho ancora fatto quindi off camera entrerò in un clan e nel prossimo episodio vi mostrerò in quale clan sono entrato perché mi sa che creare un clan non ci penso proprio visto che costa un il le mie medaglie per non so quanto perché costa 100.000 medaglie quindi comunque raga per questo video è tutto spero questo video vi sia piaciuto mi dispiace che ho perso tutte e tre le partite ma vabbè comunque noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao ciao